e sto facendo della fatica che se dici le parolacce restano giù neanche il moschettone tira fuori ora che con una qualche goccia c'è in giro salve salve piano è visto che non sai quanto tiene se se su Grazie. Anche è vero che potrei far così, perché è girata dall'altra parte, è torcigliata sopra. Io non posso fare niente, solo arrivare giù. Basta, mola pure. Sei pronta? Aspetta che devo lasciarmi andare. Blocca ancora? Ok, piano, che lo prenderemo scattoni. Ancora? Ti tolgo Jackie? Ancora? Non ci arrivo. Ancora? Ho capito, frena. Vieni, vieni. Vieni. Pianco, ne? Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Sì, vieni. La frutta èata. Piano, ne? Cosa? Adesso fa l'altro. Che cosa è? Sì. È che cosa è lì. Se che cosa è lì. Sì, c'è lì. 80 cinchini però ok ok un latino? non funziona le caviglie sudate lucido non mi son cagato addosso neanche un po' allora aspetta